Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Per chi fosse iscritto da poco, per chi non lo sapesse, fossero sfuggite, io ho fatto dei gameplay tra il 2020 e il 2021, live e video normali su questo titolo, se vi va di andare a rivederveli, perché non lo approfondiremo adesso, insomma, però voglio parlarvene. Il gioco è completamente in italiano, costa 24 euro, ovviamente prezzo pieno rispetto a quello che costava prima, perché il gioco è uscito, e che cos'è? The Tenants, come dice gli inquilini, noi diventeremo degli imprenditori, insomma, del mattone, dove dovremo, grazie alla prima donazione di uno zio e via via guadagnando soldi, andare ad acquistare sempre più appartamenti, acquistarli o venderli, e soprattutto affittarli. L'affitto provoca ovviamente dei problemi, come tutti i proprietari, quindi potrete avere il classico inquilino che non paga, l'inquilino che vi rovina l'appartamento, l'inquilino che, diciamo, dà fastidio ai vicini, quindi sentirete i vicini, insomma, ci sono tante cose da fare e l'aggiunta del workshop li aggiunge parecchio in più, perché? Perché potete scaricare nuovi pavimenti, nuove pareti, colori, insomma, temi, e soprattutto oggetti. Addirittura ho trovato, per dire, la lampada di Batman, che proietta sulla parete i simboli di Batman, cavolate, però, insomma, vi permetterà di creare gli appartamenti dei vostri sogni e poi metterli in affitto. Ora, io non so se, vedete, noi abbiamo un gameplay abbastanza vecchio, tra l'altro tenete d'occhio questo titolo, perché lo sto tenendo d'occhio ed è il vero dei movies, adesso io lo dico, sto tenendo d'occhio anch'io, ma... Allora, possiamo scegliere la nostra faccia, direi che è quello che più si avvicina è questo. Andiamo avanti, proprietario, modalità creativa, vedete che possiamo, gli obiettivi non funzioneranno in modalità creativa, censura dei parassiti, perché poi ci sono brutte tematiche, insomma, all'interno del gioco, quindi dovete fare sempre attenzione a chi prendete. Standard, va bene. Tra l'altro, andando avanti, ci sono tantissime cose da sbloccare, nel senso che potrete poi amministrare, una volta che avete più appartamenti, la possibilità di assumere degli amministratori, quindi amministrare i vostri quartieri con i vostri appartamenti. E dovete tenere d'occhio, eccoli qua i quartieri, ecco, questo adesso è più completo, perché vedete che qua è dove eravamo prima, poi c'è i bassi fondi, la periferia, e Manhattan, Manhattan è quella con gli edifici più interessanti. Va bene, questo è lo zio, clicchiamo sui quartieri di bassi fondi, va bene, ok, eccolo qui, questo è il quartiere, vedete, bello grande, e poi ci sono case in continua evoluzione, quindi con la possibilità di andare a acquistare. Ok, ti ho lasciato un incarico speciale, ok, qua è dove eravamo esattamente prima, era buggato perché è una partita vecchia, bisogna qualcuno per trasformare il mercato in qualcosa di fattibile, quindi qui non vedrete nulla di nuovo, nel senso che lo abbiamo già fatto in video, in live, quindi vi invito, appunto, se cercate indie gameplay tra The Tenants, vedrete 4 o 5 gameplay tra video e live, quindi avete comunque 2 o 3 ore di roba da vedere, dove potrete vedere e farvi un'idea su quello che ha da offrire questo titolo. Ora, possiamo localizzare dove dobbiamo andare, questa è la roulotte dello zio, però ci mostra l'inizio, quindi possiamo andare a decidere di pulire, non so perché noi siamo vestiti a coniglio, probabilmente perché c'è l'evento pasquale, quindi è un gioco che comunque si è evoluto tanto, è cambiato tanto, e adesso è arrivato nella versione definitiva, aspettate, volevo pulire questo più che intonaccare. Vabbè, andremo a pitturare dopo, intanto stiamo sistemando i difetti di questa casa. Dovremmo poi allacciare nelle case che non lo hanno i vari riscaldamenti, ripara, vedete abbiamo la possibilità di scartare, quindi ottenere dei soldi e riparare. Potremmo andare anche a fare delle missioni per conto terzi, cioè rimodernare appartamenti di altre persone, recuperandone anche dei mobili, abbastanza dai, particolari a tema, e praticamente, in questo caso vedete non ce l'abbiamo fatta e lo buttiamo. Dicevo, recupereremo quei mobili e quei mobili li potremmo mettere nel nostro magazzino e usarli per arredare appartamenti che acquisteremo pronti da affittare e aumentarne quindi il valore. Ovviamente il fare... Ok, è posto. Sì, ovviamente poi all'inizio si fa per soldi vari lavoretti, poi si inizia a fare sul serio. Le spese maggiori degli appartamenti sono appunto il collegamento della rete elettrica, che è quello che costa parecchio. Vedete, qua cominciamo la ristrutturazione. La ristrutturazione ci permette di fare quello che vi dicevo, quindi andare a posizionare, collegare i vari cosi e le varie utenze. Allora, consiglio decorativo, pulimentare il punteggio di arreddamento di questo oggetto. Ok, mettendolo lontano, va bene. Completa i pavimenti, quindi qua possiamo mettere il pavimento che vogliamo. In questo caso potremmo mettere questo. I muri, quindi andiamo a mettere le pareti. Le pareti di una roulotte, la facciamo, voglio farla bella luminosa questa roulotte. E tra l'altro, ok, dobbiamo ruotare. E il bagno io lo farei colore diverso. Lo metto azzurro. Guardate che... Allora, con cui vedere ruotiamo. Ok, dovremmo aver fatto. Credo sia tutta pitturata. Ah no, le voleva marroni, ok, sono un bambu. Allora, fammi un po' vedere. Completare le pareti. No, le voleva marroni, quindi... Marrone opaco, niente, peccato. Vabbè. E questo mi fa venire voglia di poi fare come voglio io, prossima volta. Sì, vabbè, è bella come l'avevo messa io. Comunque il bagno lo lasciamo così, è pazienza. Mobilie. Cosa mi chiede? VC compatto. Allora, vediamo un attimo. Un paio il bagno. VC compatto. Possiamo metterlo dove vogliamo. Qui, vedete che si orienta in automatico sulla parete. Lo metterei qui. Qua non piace. Perché non piace? Eh, vabbè, lo mettiamo qua. VC compatto. Carta igienica. Classico. Lo mettiamo lì vicino. Specchio. Spazzola VC. Quindi, spazzola VC. Scopino per VC lungo. Lo mettiamo qua. Perfetto. Eh, uno specchio. Lo mettiamo qui. E non mi chiede il lavandino. Vabbè, poltrona, televisore. Ma vediamo la sala. Vediamo dov'è la poltrona. Poltrona. Ok. Televisore. Posso metterla a parete? No, mannaggia. Vediamo un po' se c'è. Ecco, televisore. Sì. Io metto old style. Sì, è improponibile un appartamento così, ma va bene. Televisore non piace. Perché? Sì, me l'aveva dato, ma non ho troppo soddisfazione. Mettiamo, spezziamo così, facciamo la ricerca con il frigorifero. Lo mettiamo piccolo perché siamo in una roulotte alla fine, quindi lo piazzo magari così. Televisore, televisore, televisore. Un tavolino. Lo specchio non me l'ha dato, però. Eh no, probabilmente perché voleva questo. Ho fatto così. Quindi, vediamo così. Il frigorifero me l'ha fatto mettere, però... Perché dice nessun accessorio immobilio? Ah, perché sì, deve essere accessibile. Perfetto, adesso va. E un televisore. Vediamo un po' televisore. Questo andava bene. Non so perché non me lo lasci. Ok, me lo lasci mettere qui. Non piace. Non piace, perché non piace. Sta bloccando la strada immobile. Ok, quindi spostiamolo. Lo mettiamo di qua, così. Ok. Sì, va bene, l'ho messo a caso. Va bene. Invia l'ordine. Qua vedete che c'è un simbolino della corrente, ma non lo possiamo mettere. Adesso. Questa tecnicamente è la procedura che faremo quando acquisteremo un appartamento in modo da renderlo più appetibile per la gente. Poi arriveranno le offerte della gente e noi potremo cercare di saperne di più su chi ci verrà in casa, su chi prenderemo come inquilino. Ecco qua, ci fa vedere come funziona dall'aggiornamento. Vedete, ci costa 4.000 l'installazione dell'energia elettrica. In questo caso, aggiorniamo l'appartamento. E gli aggiornamenti includono l'elettricità, l'acqua, il riscaldamento. In questo caso, andiamo a farlo. Aggiornamenti dell'appartamento. Perfetto. E ora l'elettricista arriva e ci installa la scatola della corrente. Ora, configurazione. Dobbiamo installare le prese elettriche pensando alla disposizione degli arredi, ma non preoccupatevi per costarli nel secondo momento che si tratta nel tuo design. È molto bello questo perché questo non c'è assolutamente nei vari gameplay che abbiamo visto negli scorsi video, almeno quanto ricordo. Ed è una bella aggiunta. Posso uscire dalla ristrutturazione quando ho finito? Finisco. E qua vedete che ci dà poi la percentuale, tipo distanza riconosciuto il gioco e così via. Va bene. E qua dobbiamo ripristinare anche questo edificio qui. Vedete, se noi accettassimo un incarico per conto terzi, andare a ripristinare e ci fosse questo. Lo rimettiamo a nuovo, lo prendiamo per noi. A lui magari non interessa, l'obiettivo non richiede la riparazione di questo, ce lo teniamo e lo possiamo riutilizzare per un nostro appartamento personale. Abbiamo l'albero delle abilità, che ovviamente da proprietario, inquilini, insomma ci va a... Questa è molto carina come cosa perché se c'è un inquilino che so che non paga, così possiamo rendergli la vita impossibile. In questo caso lo sabotiamo mettendogli un tombettista sotto la finestra. Chef professionista, cioè dobbiamo farli comunque contenti. Questo è il potenziamento dello zio, quindi abbiamo potenziamento proprietario, inquilini e zio. Molto interessante. Gli incarichi, vedete, ho un viaggio di lavoro molto importante, bisogna che qualcuno si occupa dei miei inquilini. Budget 8000, punti... Perdona, ok. Va bene, ci prendiamo cura degli inquilini. E va bene, abbiamo il punto dove... Ecco questo è l'inquilino. Possiamo... Vedete, questa è l'interazione che abbiamo con lui. Possiamo fargli un regalo, dargli del cibo, del popcorn. Poi potete andare a sabotarle, insomma. Ok, incarichi di ristrutturazione base completati. Vedete cosa gli piace, cosa non gli piace. La relazione che hanno con noi. Adesso qua gli abbiamo fatto il regalo, quindi... E qua abbiamo i messaggi dei vari inquilini che noi avremo. Quindi sarà veramente un casino da gestire tutto. Il giocatore 1, vedete la progressione, il livello che facciamo, le recensioni che ci rilasciano. E vediamo un po'... Prendete qui i bisogni dell'inquilino. Ecco, sai. Vedete, noi possiamo fare una ricerca per saperne di più rispetto all'inquilino. Abbiamo i servizi, possiamo andargli lo chef professionista, il massaggiatore, le varie, fargli dei regali o sabotarli. Ammo freddo. Va bene. Allora, completare un lavoro di ristrutturazione. Dovremmo avere... Vediamo un attimo se qui negli incarichi c'è una ristrutturazione. E tra i incarichi... Possiamo accettare una ristrutturazione in questo appartamento. E quindi possiamo andare a vedere... Cominciare la ristrutturazione. Questo l'avevamo già visto in video, insomma non ve lo farò rivedere, però abbiamo la possibilità di rimettere a nuovo usando questi tool, diciamo queste preferenze, rustico e zen e non contemporaneo, per renderlo più appetibile per questo signore che ci ha proposto di pagarci per ristrutturargli la casa. Qua vedete abbiamo la possibilità di cambiargli le prese. Le prese hanno un'area di influenza, quindi è molto bella come cosa. Abbiamo il condotto di ristrutturazione che va a diffondere bene il riscaldamento in tutta la casa. E la casa è un... Non so se... Un bilocale, un trilocale, insomma è veramente una stanza con un letto, una stanza libera, una stanza soggiorno, insomma con cucina. E l'entrata appunto da qui con le scale. Quindi è carina anche da vedere dall'esterno, perché sono comunque due piani, di là c'è altro. E sono tutte cose che poi potranno sbloccarsi e potrete occuparvene voi. Ragazzi, questa è una presentazione rapidissima dopo un anno, insomma più di un anno dall'ultima volta che ve l'ho portato. Detenants vale 25 euro, secondo me sì, perché se è un gioco, se amate i gestionali, dove voi gestite, acquistate, fate un po' gli imprenditori, è un gioco che sicuramente merita la vostra attenzione. Spero di avervi fatto cosa gradita di avervelo portato e alla prossima. Lasciatemi un commento qua sotto di cosa ne pensate. Ciao ciao. Ciao ciao.